allora benvenuti, ho appena fatto il video su un import dall'asset store quindi sull'asset store ad esempio ho trovato questa cosa in cui ci sono dei giocattoli per bambini vedete che ci sono diverse cose, tra cui c'è questo giocattolino qua che si chiama che è un prefab, qua Army Truck, che sarebbe un camion dell'esercito ora questo camion dell'esercito vogliamo trasportarlo dentro Splashor ma non in una scena ma come un oggetto che uno volendo può mettere nei vari posti quindi come un prefab ricordiamo che i prefab sono blu in Unity e diventano prefab semplicemente trascinando un oggetto dentro gli assets quindi è una cosa abbastanza semplice qui ho dovuto fare, quando ho importato il... torniamo qua, vedete che c'era praticamente il feature vedete che ho tirato giù Children's Wooden Toys Free Track Pack e qui ho dovuto cambiare, come ho spiegato nel video che ho appena pubblicato, tutte le texture perché sennò non risultavano e di questa texture ho preso l'Army Truck questo signore qua ok, allora la cosa che vogliamo fare è fare un prefab in Spatial come si fa a fare un prefab in Spatial? occorre andare nella solita scena che vogliamo fare e nella scena selezioniamo anziché Space che è quello che abbiamo spiegato in tutti questi uno o due mesi invece che Space facciamo un prefab Object ora, facendo questa cosa praticamente andiamo a un prefab Object anche sotto quindi creiamo un nuovo prefab Object lo chiamiamo in questo caso, lo chiamiamo Truck Truck vuol dire che diventa Army Truck, lo è, dell'esercito quindi Camion dell'esercito dobbiamo metterci sostanzialmente un oggetto dentro che abbia, che sia un prefab allora, perché sia un prefab? adesso sospendiamo un attimo questo occorre avere una scena dove dentro c'è il nostro oggettino andare dentro l'Army Truck e aggiungere un componente che si chiama semplicemente prefab Dispatcher Dispatcher Prefab Object una volta che abbiamo questo questo prefab Object attaccato a questa cosa qua quindi questo qui è pubblicabile direttamente allora, per vedere che effettivamente funzioni in realtà abbiamo fatto già tutto quindi andiamo nel test locale quindi avete visto che abbiamo messo qui possiamo metterci anche il thumbnail che sarebbe l'immaginina che si avverrà vista quando questo prefab verrà pubblicato e andiamo nell'issues quindi prendiamo il prefab Object Army Truck e facciamo un refresh ok, dice che va tutto bene nel caso del prefab non c'è bisogno di avere la luce quindi cosa facciamo? proviamo a fare il test di questo prefab nel nostro sandbox quindi facciamo Text Active Package quindi abbiamo il nostro solita pubblicazione quindi andiamo praticamente nella nostra solita quindi cancelliamo la vecchia che era qua qui ci sta pubblicando nella sandbox il nostro oggetto e qui in teoria dovremo avere il nostro prefab ecco in realtà abbiamo messo un cubo erroneamente prima cioè è rimasto probabilmente da prima dobbiamo mettere il prefab quindi dobbiamo prendere il nostro Army Truck della nostra scena e metterlo dentro il prefab e a questo punto possiamo fare continuiamo sempre che non ci siano ok with prefab object component must be assigned in the config quindi come dobbiamo fare? dobbiamo prendere questo che ha il prefab object ok, quindi affinché sia un prefab valido bisogna metterlo qua come prefab adesso ho provato a farlo però mi dice che mi manca il collider quindi cancello questo prefab che ho fatto e poi vado sull'Army Truck questo e devo aggiungergli un collider quindi facciamo add collider quindi collider questo ora per quanto riguarda queste cose piccoline il collider migliore in realtà sarebbe il box collider quindi mettiamo un box collider fatto così e a questo punto andiamo a salviamo questa cosa qua quindi abbiamo messo sia il prefab che il box collider e poi magari chiamiamo ogni nome così ci ricordiamo che è collider ok questo Army Truck collider lo prendiamo, trasciniamo lo mettiamo praticamente da qualche parte negli asset a questo punto è diventato effettivamente un prefab Unity e questo prefab possiamo metterlo in teoria dentro il nostro config quindi nella config qua vedete che c'è un none e gli mettiamo questo ok Army Truck collider special prefab object controlliamo che sia un prefab object qua sopra quindi create non prefab object e prefab object Army Truck ok e a questo punto nella issue della teoria se facciamo refresh dovrebbe darci verde cioè abbiamo abbiamo effettivamente un prefab object Army Truck e l'abbiamo chiamato così e quindi in teoria possiamo pubblicarlo quindi se noi facciamo adesso il nostro text active package che prima è andato male quindi ripubblicato andiamo a cancellare il nostro sandbox iniziale viene creata un'altra sandbox eccolo qua e qui vedete che abbiamo praticamente il nostro oggettino che però è presente possiamo prenderlo tra l'altro girarlo però è piccolino quindi probabilmente bisogna cambiare la scala quindi chiudiamo questo sandbox torniamo nel nostro poso il nostro oggetto ecco una cosa importantissima che suggerisco a loro è di fare ecco che sia a posizione 0,0,0 che abbia gli mettiamo a questo punto una scala di abbiamo visto che facciamo 6 volte più grosso così quindi abbiamo Army Truck Collider grosso grosso così ce l'abbiamo quindi abbiamo sia il prefab che il box collider che gli abbiamo messo attorno lo riprendiamo così quindi quindi prendiamo una variante del prefab perché lui disse c'era già un prefab volevamo modificare il presente quindi andiamo su questo sulla nostra configurazione qua e gli mettiamo dentro il variante ok quindi a questo punto qui vediamo sempre le issues non ce ne sono e quindi proviamo a fare il test di questo oggetto che è diventato un pochino più grosso ok tempo reale quindi abbiamo cambiato l'URP anche se non ve l'ho fatto vedere in questo video quindi guardate pure il video precedente e vedete che abbiamo il nostro ah ecco tra parentesi questo ecco l'unico problema di questi di questo oggetto è che è è fatto adesso sto chiedendo come fare per poter collidere con il in qualche modo collidere con gli player sul forum però diciamo possiamo prenderlo e anche in VR in teoria non ha fatto la prova ma si può prendere si può spostare quindi diciamo un oggetto il cosiddetto proppo come si dice in alcuni posti e quindi è possibile che uno possa praticamente crearsi e portarsi dietro questi oggetti e quindi questo è il prefab quindi tra l'altro se gli mettessi che è un rigid body quindi che è soggetto alla forza di gravità cade a terra anzi se vogliamo possiamo anche provare a farlo quindi andiamo praticamente nel nostro sempre army track collider grosso e gli diciamo gli aggiungiamo un rigid body questo rigid body vuol dire che è soggetto alla forza di gravità quindi ha un po' di particolarità e lo chiamiamo con il nome quindi rigid body per ricordarsi che poi voi quando fate i vostri oggetti non è che dovete scriverci qua tutto quello che sono però per il momento praticamente prendiamo una variante questa rigid body variant e questo rigid body variant lo ripubblichiamo per l'ennesima volta qua quindi prendiamo rigid body variant lo pubblichiamo qua ci accertiamo al solito che non ci siano issues e poi facciamo un test dell'active package quindi quello che dovrebbe capitare è che questo prefab essendo un rigid body dovrebbe cadere a terra questo è quello che mi aspetterei e quindi non possiamo averlo per aria quindi è un po' più naturale quindi anche se vedete che è caduto è caduto e si è fermato quindi ha fatto una collesione con il piano quindi io posso spostarla quindi adesso si sposta rimanendo a terra e quindi questo è interessantissimo e così abbiamo fatto il prefab quindi spero allora poi la pubblicazione del prefab in questo video non lo faccio perché c'è un altro pezzettino che è comunque molto simile a quello della pubblicazione degli spazi magari farò poi un video più specifico comunque credo che vi ho spiegato come fare il come fare un prefab il prefab possono avere gli script possono se cliccati possono possono reagire possono fare tante cose possono essere delle cose che se si hanno possono far scatenare per esempio delle chiavi che aprono un porto e quindi non di Skype Room quindi sono delle cose abbastanza interessanti va bene allora questo è tutto grazie per la visione buonasera grazie per la visione